Start, 2, 1, boosted ignition and liftoff! Passo a destra il link, insomma lo scaricate da lì, una volta era disponibile anche sul workshop ma poi gli sviluppatori sono stati costretti a toglierlo e non so quando lo rimetteranno, in quel caso era comodo perché si aggiornava in automatico e si scaricava da lì, ma lì vi basta andare sul sito, scaricarla e diciamo iscrivervi e quindi appunto scaricarla. Che cos'è Rogue Trader? È un gioco di ruolo con combattimenti a turni basato sull'universo di Warhammer 40.000, è un gioco che vi consente di giocare anche in modalità cooperativa con un amico, è un po' come si fa già su altri giochi tipo Baldur's Gate e simili, è un gioco che non è la mia ambientazione perché qua parliamo di Warhammer 40.000 quindi l'impero, l'imperatore, però tutto è realizzato molto bene. Vi faccio vedere così, a grandi linee, questa è la storia principale, vi dà la possibilità di scegliere la difficoltà, vedete che è tutto tradotto molto molto bene e abbiamo la possibilità di fare uno dei personaggi ma anche andare a scegliere un personaggio personalizzato, quindi crearlo da zero, da un ritratto, il tipo di capelli, questo è il personaggio che poi vedremo in gioco con tutte le varie bioniche, la voce e così. Guardate quanti parametri ci sono da mettere, perché? Perché questa è la selezione del mondo nativo dove chi conosce l'ambientazione ci si troverà, sono le varie origini del nostro personaggio, il mondo da cui proviene e quindi le competenze che ha. dal mondo imperiale, il mondo fortezza e così via. Io purtroppo, allora un pochino mi ero informato tempo fa, è interessante come ambientazione per quanto io preferisca quella fantasy. Questa è l'origine, quindi noi possiamo arrivare da commissario, signore del crimine, petre ministorum, ufficiale della marina e anche qui va a modificare le nostre caratteristiche e capacità. Abbiamo poi la selezione del trionfo, che questo praticamente è un altro incarico che abbiamo fatto, un gesto di maggior spicco nella nostra vita, che noi andiamo a scegliere. E poi abbiamo il punto buio, il marchio della vergogna, il punto, diciamo, lo scheletro nell'armadio che è il nostro personaggio. Qua abbiamo le carriere dove andiamo poi a scegliere dove partire. E qua sappiamo che scegliendo il guerriero abbiamo poi a livello 16 l'assassino e l'avanguardia o l'arci militante, per poi diventare un exemplar, che poi è la destinazione di tutte. L'ufficiale, l'avanguardia, maestro tattico, grande stratega, l'agente ci fa in più rispetto all'assassino, cacciatore d'Italia e grande stratega, e il soldato che ci fa cacciatore d'Italia, maestro tattico, l'arci militante e poi exemplar, uno di questi lo scegliamo. Poi abbiamo la distribuzione classica di tutti i giochi di ruolo, delle varie abilità, quindi abilità balistica, la forza, combattimento, la resistenza, tutto tradotto, mamma mia. E tra l'altro poi, va bene, qua ci sono tutte le abilità che poi ci vedranno magari fare tiri di conoscenza dell'imperium, del warp, dell'oxino, dell'arte medica, la persuasione e così via. Adesso io magari li metto un po' a caso, vedete anche ogni punto messo va a influenzare queste abilità qui, le metto un po' a caso, e poi abbiamo la classe spada, la nave, la fregata classica, che ci permette di scegliere il nome, e poi abbiamo il risultato finale del nostro personaggio, che è questo. Ma non è questo il momento che aspettiamo, insomma, perché vado a vedere se funziona la vecchia partita che io avevo attivato, dove, non vi spoilererò nulla, però insomma, molto bella come ambientazione, ci sono anche diverse cutscene che usano sempre il motore di gioco per muoversi all'interno di questo mondo e farvi vedere quello che succede, un sacco di scene parlate, un sacco di scene dove comunque adesso qui ci troviamo, c'è stato dato un incarico e c'è stato un assalto della nave dove stavamo viaggiando, quindi. E vedete che questo è il tipo di grafica, il tipo di gioco. Col tasto I accediamo al menu dove abbiamo il riassunto del nostro personaggio, le armi e le capacità, con i punti che io avevo distribuito, con le parti di armatura, le armi che abbiamo messo, infatti qua possiamo andare a scegliere. Qua abbiamo il personaggio con la sintesi, insomma, di tutti i punti che abbiamo messo, adesso si va verso l'etica, insomma, da puritano a radicale e con tendenza verso l'eretico, dogmatico, iconoclasta. Le competenze che abbiamo, siamo un agente, quindi abbiamo la possibilità di analizzare un nemico e tempo di ricarica ridotto. Abbiamo la carriera che io ho scelto, fucile della marina, mondo nativo e il mondo imperiale, ho scelto qualcosa, un terreno che bene o male avevo già sentito, ma non l'avevo mai praticato. Ora, ho uno strumento che mi permetta di controllare lo stato dei compartimenti lontani che non sono in contatto vocale, ma prima dobbiamo aspettare i risultati di morte. Ok. Ok, vedete che qua clicchiamo e andiamo. Abbiamo il tutorial che ci spiega tutto, che è questo, e poi abbiamo l'elenco delle missioni, le indiscrezioni, i contratti che abbiamo accettato. Cioè, vi dico, è un gran gioco, se ne parla un gran bene, non sarà il gioco che io giocherò, spolperò, perché non ho la passione di Warhammer, ma più che altro amo anche lo spazio, ma non amo questo spazio un po' così tecno-punk, diesel-punk, ma mai dire mai nella vita, perché io tante volte mi sono appassionato a tante cose, quindi, insomma, è molto carino, però se dico delle cavolate sappiate che non sono ferrato io su questo. Comunque dobbiamo trovare l'arci militante, il ponte dell'ufficiale sotto attacco da parte di un nemico sconosciuto, quindi l'arci militante è morto e è uscito per liberare la strada verso l'ascensore che porta i ponti superiori. L'ufficiale non è ancora tornato, quindi è il momento di scoprire la causa del ritardo. Abbiamo anche la mappa. Ok, sto girando praticamente da solo, vedete che poi posso ruotare la visuale. Ho le abilità qui, continuiamo a vedere, qua non si può salire. Non so dove andare. Ovviamente vi ho detto dove scaricare la traduzione, io spero di non vedere messaggi, di potervi mettere un link, lo sforzo, leggere all'inizio, insomma, e capire. Bisogna impiegarsi un pochino, insomma, nella vita, e quindi vincerà un premio chi scriverà questa cosa. Scherzo, ovviamente. Va bene, vedete, queste sono le scene in... Ma tante volte cambia proprio in angolazione, si vedono scene con tanti personaggi, cioè scene un po' più da video di gioco. E questi sono i dialoghi con cui parliamo. Grazie. Ok, sei ancora vivo il vegeto. Andiamo avanti. Kun distoglie lo sguardo dall'alce militante. Guarda te, morta, ricomponiti. Cosa? Il Lord Capitano ti ha mandato per incoraggiarci? Abbiamo finito qui, riferirò subito. Tira fuori il Vox dalla cintura. Oddio, succede qualcosa? Maestro Alessio Suri, cosa sta succedendo sulla mia nave? La rete Vox è silenziosa. La maestra del Vox non risponde. Assalitori armati hanno preso l'assalto. Va bene. Non ho ancora ricevuto notizie dall'Enginarium riguardo eventuali guasti al campo Geller. Ok, qua possiamo ipotizzare. Ammutinamento contro i consacrati dell'imperatore. Giustiziate i traditori fino all'ultimo. E beh, siamo degli imperiali noi, quindi insomma adoriamo l'imperatore. Per prima cosa dobbiamo confermare che il ponte e il santuario e i navigator siano sicuri. La sua espressione cambia mentre i suoi occhi lampeggiano minacciosamente. È un lavorone di traduzione qua, tra i termini specifici. Non avrebbe mai potuto farlo un gruppo non appassionato. Va bene, noi intanto continuiamo perché non sono anti-spoiler e soprattutto bisogna andare veloci. Trova Ederard e portalo qui. Ok, in qualsiasi stato cosa significa? Siamo nel warp. Considerando l'attacco potrebbe essere un'interruzione nel campo Geller e l'infiltrazione di forze malevole. Gli psionici, ok. Ascolto e obbedisco, Lord Capitano. Mi sto facendo vedere Ligio al dovere, anche se poi in realtà le scelte multiple sono dietro l'angolo in questi titoli. Adesso dovrei capire dove devo andare, perché vedete che loro sono andati via, la porta si richiude. Ah, ok, stiamo andando avanti. Sei pronto per andare al punto 18? Mi arrangerò, fate strada. Va bene, perché poi bisogna ricordarsi anche di ricaricare l'arma. Oddio! Ti ho promesso un destino speciale, Indy, è tempo di comperlo. Ah, ci ha fregato! Perché? Eh? Perché? Vabbè. Vabbè, vediamo il caricamento e vediamo dove andiamo a finire. Si sono armati tutti che non è un buon segno, mi stanno prendendo a calci. Manca il dettaglio. Attenzione, attenzione, si gentile che è il nostro ospite. Ha una missione importante a portare a termine. E guarda dall'alto in basso. Vedo che sei tornato con noi, delizioso. Qual è il significato di questo? Devi avere battuto la testa più forte di quanto pensassi, non ti importa che ti... Ah, ok, vuole il nostro sangue, quindi o lo doniamo di nostra sponte o se lo prende lui. Siamo in anticamera della Camera del Mandato, la cripta più sacra di questa nave del vuoto, perché loro viaggiano con queste fortezze volanti nello spazio. Perché lo stai facendo? Perché sto eseguendo un ordine. Cosa sei un consanguini? Il tuo sangue è troppo diluito per la sentinella? Ah, ok, non può dare sangue. Non so la lore, quindi non so cosa serve al sangue esattamente. Vi aiuterò se mi risparmierete la vita. Ah, ok, quindi non combattiamo e andiamo a donare sangue. Va bene. Anche perché ce ne sono 5 qui che ci puntano. Prova di capacità nei dialoghi. Ok, abbiamo la prova di capacità. Influenzano lo sviluppo del dialogo. Abbiamo tecnologia 45. Noi abbiamo 35, quindi esaminiamo il dispositivo. Sospetti che possa trattarsi di una sorta di reliquia dell'archeotecnologia. Cerca qualsiasi cosa che possa essere usata come arma. La ricerca è vana, ok. Esamina la sentinella. Ok, guarda, metti la mano. Ok. Alti livelli di umore caustico. Il soggetto è in uno stato forte a stress. Ha bisogno di assistenza? Sì, ho bisogno di assistenza. Avvio del protocollo di difesa. Cioè praticamente li abbiamo fregati. Bellissima sta cosa. Ok, controllo la camera del mandato. Andiamo avanti. Cioè è un mix comunque tra steampunk e medioevo. Ok, si è noto per me. Ok. Volevo vedere un attimino il combattimento giusto per salto questa fase qui. E vediamo cosa succede così. Che foglia sta succedendo? Offuscamento temporale unità mobili e sentinella del mandato in attesa. Sei la sentinella del mandato? Purtroppo sono tutte cose che gli appassionati sapranno esattamente cos'è ma io non lo so. Ho bisogno di un'arma. Distanza dalla posizione corrente della senale più vicino. Ovvio calcoli situazionali. Portami via da qui. Ok, praticamente questo è il diario. Nella parte superiore compariranno notifiche. Ok. Quindi cosa devo fare? Vediamo un po'. Si gira la camera del mandato. Ok. Ma posso ancora fare qualcosa qua? No. Ok. Ho ancora trovato un termine non tradotto. Veramente interessante. Lui intanto ci sta continuamente parlando quindi ma l'altro dove è andato? Perché non si è capito dove si è cacciato di qua. Vediamo un po' la mappa. No. No, credo che si debba tornare indieta. non si può neanche andare più lontano quindi beh. Questa è la tua letta. Si va di qua? Ah no, forse devo fare qualcosa qui. Sigilla... Ecco qua forse. Qui, qui, qui. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. E qua. Sigilla. Eccola lì. Maestro Vindi, cosa stai facendo nella camera? Come hai fatto che il trono d'oro mi preservi? Che significa questo? Kunerad Voigvir è un traditore. Voleva indicarsi di trono d'oro per qualcosa e cercare di ottenere il mandato e... Ok. Ok, praticamente ha ammesso di essere alla mente. Perfetto. Pucile al cecchino sotto tutto aderente kit medico. Abbiamo... Ok. Trattamento delle ferite. Praticamente possiamo andare a curarci. Ok. Allora, facciamo così. Vado a vedere le armi. ho il fucile al cecchino che equipaggio subito. Questo. Ah, non ho tempo per questo. Ok. Che dobbiamo fare adesso? Potremmo sbagliare il tasto. Camera è mandato. Accetta l'aiuto di Abelard. Vabbè, intanto stiamo girando in due, no? Andiamo. Andiamo. Ah, finché non avremo fasciato la tua ferita non possiamo andare. Va bene, ok. Quindi? Equipaggio. Perfetto. Quindi dovremmo essere in teoria in grado di curarci con l'abilità questa qui. No, l'ho montato sul tizio sbagliato, mi sa. Praticamente se io prendo lui posso no curare lui. Ok. Perfetto. Sì, vi salto i dialoghi perché sennò staremo ancora tutto il tempo lì. Come hai fatto a trovarmi? Faccio la strada se ne scalco perché hanno questi nomi, questi ruoli un po' medioevali. Ok. Volevamo il combattimento arrivare al combattimento. Fase tattica. Praticamente selezionato il personaggio possiamo posizionarlo nelle zone dove vogliamo. Ok. Io ho il fucile al cecchino quindi potrei mettermi potrei mettermi qua. Allora. No, io mi metto qua. Ma se io seleziono lui e lui lo metto qua. Va bene, dai. Inizia la battaglia. Sì, io non guardo le abilità adesso voglio provare voglio provare a vedere. Punti azione 4 ho questi punti azione che guardo a spendere quindi sparo. No. C'è due passi. Sparo con questo. Colpo singolo. Sì. Posso colpire lui. E lo ucciderei di colpo di botto. Quindi 93. Dai è uscito lui. Bellino. Spezzato in due. Un colpo solo avevo però. Lui. Passo il turno. Lui è... Ok. Lui ha l'abilità di carica quindi fendente carica contro di lui. E l'ha fatto a pezzi pure lui. molto bene. Puoi fare un passo? Mannaggia no. Non ce la fa. Eh niente. Passiamo il turno. Parato. Buono. Penso sia previsto che vada così. Possono essere feriti dai tuoi colpi. Ok. Interessante anche questo. Adesso. Infatti lui ha fatto vedere ha colpito anche il suo compagno. Adesso attacchiamo noi. Vedete che abbiamo quattro colpi su cinque quindi dovremo ricaricare. Colpo accurato. Vabbè. Dai. Colpisci lui. 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 Bene. Passo il turno. E lui potrebbe fare la carica. Ma hanno fatto l'attacco di opportunità. Sono stato un bambu io. Eh ha colpito le spalle. Mannaggia. Quindi in compenso in riassunto di che cosa stiamo parlando? Che cosa abbiamo davanti? Abbiamo davanti un gioco di ruolo classico ho fatto filotto classico con l'ambientazione di Warhammer con sicuramente un'ottima profondità ruolistica quindi insomma e adesso anche in italiano quindi so che tanti sono appassionati soprattutto di vecchia data di Warhammer 40.000 questo potrebbe essere una bella avventura da affrontare un bel gioco di ruolo da diverse decine di ore come longevità fatemi sapere che cosa ne pensate io ringrazio ancora una volta i ragazzi della traduzione che hanno tradotto questo gioco il sito comunque languagepack.it dove lo potete scaricare oppure se non volete impegnarvi scrivervi e scaricarla aspettate il giorno in cui rimetteranno il workshop gli sviluppatori del gioco e quindi la traduzione la troverete lì però potrebbe essere questione anche di qualche mese ragazzi io vi ringrazio e vi rimando un prossimo video game play fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti